Un grande museo di arte moderna e contemporanea vedrà la luce ad Arona nell'area dell'ex macello. Sarà realizzato grazie alla donazione di 350 opere da parte dell'esperto d'arte Luigi Sansone che spiega mia moglie Fanny, figlia del pittore Gianfilippo Usellini, è mancata lo scorso anno. Prima di lasciarci ha pregato di avere cura della collezione del padre morto ad Arona nel 1971. Per seguire queste sue volontà ho proposto all'amministrazione di creare un'esposizione permanente a lei intitolata con parte dei dipinti e delle sculture che nel tempo ho collezionato. La proposta è stata accolta. Le opere che faranno parte del museo sono di artisti italiani, francesi e americani, molti dei quali appartenenti alla corrente futurista degli anni 20, 30 e non solo. Ci sono, dice Sansone, dipinte di Angelo Savelli, vincitore della Biennale di Venezia nel 1964, Salvatore Scarpitta che ha preso parte per lungo tempo alle mostre organizzate dal gallerista Ario Castelli, accanto ad Andy Warlow, Julian Shinabel, un disegno del 1949 di Lucio Fontana e ancora Gillo Dorfles, Vittorio Matino, Sandro Martini. Una saletta sarà dedicata alle civiltà extraluropee, con una quindicina di maschere provenienti da Congo, Zaire, Costa d'Avorio e opere artistiche degli indiani d'America. Vittorio Sgarbi ha conoscenza del progetto e si è reso disponibile per la realizzazione. Sarà un museo vivo, anche per ospitare mostri di artisti internazionali, concerti e laboratori. Potrebbe davvero diventare una ricchezza per Arona e un importante polo culturale per tutto il Lago Maggiore. Il progetto del museo, a cura dello studio Picone, sarà presentato un bando della Fondazione Caliplo che potrebbe partecipare alla creazione per l'80%. La restante parte delle risorse sarà investita dal Comune di Arona o da un secondo bando. «È un'iniziativa molto importante per la nostra comunità», dicono da Palazzo di Città. È già stato fatto il sopralluogo con la Soprintendenza ai Beni Culturali, il progetto in fase di completamento. Inaugurazione prevista entro il 2022.